eccoci dovremmo essere in streaming in vivo live sulla pagina facebook di trasformitalia l'appuntamento è promosso dall'osservatore europeo e questa volta sul futuro dell'europa io do subito la parola a fiammetta che dirige il traffico per questa puntata grazie roberto allora niente noi ci incontriamo oggi per discutere insieme a paola boffo e a roberto musacchio il risultati del dell'ultima conferenza sul futuro dell'europa che si è chiusa come tutti sappiamo il 9 maggio scorso io dico soltanto due due parole di numero perché da costituzionalista volevo soltanto sottolineare che a me i risultati che sono emersi da questa conferenza mi hanno un po come dire deluso disilluso perché o forse mi hanno confermato nell'idea che non è non può essere questo il modo di procedere e di costruire l'europa e dal punto di vista costituzionalistico poi ce lo diranno sia immagino paola e roberto che andranno a fondo su tutte le tematiche e ci sono delle gravissime mancanze e vedo poco poche cose positive nelle conclusioni di questa conferenza per esempio il passaggio dal voto all'unanimità al voto a maggioranza potrebbe essere una cosa positiva ma per il resto si fa un gran pasticcio si vuole accentuare il principio di sussidiarietà che è un principio politico e non un principio giuridico quindi ha una cioè non è facilmente individuabile eh il parametro quando si applica il principio di sussidiarietà e quindi giuridicamente non è una cosa eh eccelsa ma ci sono tante altre cose che diciamo mi lasciano abbastanza insoddisfatta l'intervento dei parlamenti nazionali dei consigli regionali provinciali eccetera quindi anche lì eh uno svuotamento cioè se noi vogliamo rafforzare l'Unione Europea vorremmo forse rafforzare l'istituzione Parlamento Europeo mentre invece in questo caso mi sembra che eh con la diciamo la scusa tra virgolette di un ampliamento della democrazia si fa un gran pasticcio e si allungano le procedure per eh l'approvazione eh delle normative europee poi ci sono anche ripeto piccolissimi aspetti positivi ma come dal mio punto di vista come ehm eh conclusione generale dopo aver letto tutte le cinquantasei pagine con i quarantanove punti suddivisi in trecentocinquanta non mi ricordo quanti sottopunti e diciamo che eh il risultato poteva essere migliore però eh passo senz'altro subito la parola a Paola Boffo che eh conoscete tutti quanti economista e che eh ci illustrerà gli aspetti che eh l'hanno più interessata di questo documento eh sicuramente dicendo ci cose che eh ci faranno riflettere grazie Fiammetta grazie a tutti buonasera e sì diciamo che io vorrei fare anche una un discorso su un po' più generale su quello che sta succedendo in queste settimane eh in Europa e nell'Unione Europea eh quindi non soltanto eh sulla sulla conferenza ehm vorrei fare una piccola premessa perché eh siamo tutti eh come dire interessati chiaramente e preoccupati no di quello che sta succedendo in Europa e nell'Unione eh noi come Transform Italia noi ci occupiamo da ormai da quattro anni di eh di Europa eh analizziamo politiche, istituzioni eh e ehm e diciamo che siamo sempre orientati chiaramente con un'analisi molto critica sulla eh sull'Unione Europea ma anche con un orientamento a ehm a indagare sulle possibili eh trasformazioni possibili modifiche che in qualche modo possono interessare l'Unione e ovviamente in questo momento eh siamo ancora il più preoccupati eh a causa ovviamente della guerra eh in Ucraina e della eh immediata reazione eh dell'Unione ehm su questo tema. e che cosa è successo? Sotto gli occhi di tutti ovviamente eh come ha reagito l'Unione Europea anche eh sostanzialmente ehm non si è posta non non mi pare che si sia mai posta su un piano ehm di eh perseguimento di un negoziato per raggiungere eh una soluzione di pace ma eh invece è scesa sul campo eh sul campo militare eh per la prima volta l'Unione Europea ha ehm comprato armi eh messo a disposizione risorse per comprare armi per aiutare l'Ucraina eh questa cosa è stata definita eh uno spartiacque no? Dal primo discorso che fece Ursula von der Leyen eh a a qualche giorno dalla eh dall'invasione eh dell'Ucraina. Ehm il commissario Borrell, alto commissario per la politica estera della eh dell'Unione ehm nei primi giorni di marzo eh diceva che appunto sono stati ehm è stata attivata eh la eh European Peace Facility e cioè questa eh questo strumento dell'Unione Europea che fino ad allora era servito diciamo a offrire servizi di consulenza in qualche modo per per vari paesi soprattutto paesi terzi ovviamente eh e che per la prima volta invece ha messo insieme risorse per comprare armi e questa cosa è stata salutata da appunto Borrell con grande eh con grande eh enfasi eh lui ha detto un altro tabù è crollato disponiamo di di capacità di ritorsione eh dobbiamo tenere maggiormente conto della difesa e della sicurezza nel modo eh nel nostro modo di essere e dobbiamo smetterla di condurre discussioni teologiche sull'autonomia strategica e questa cosa mi è rimasta molto molto impressa l'ho già detta qualche altra volta ehm e questo la guerra sostanzialmente ha anche scombussolato un po' le politiche eh della eh dell'Unione ehm se ne è già parlato in qualche eh incontro precedente all'Osservatorio Europa eh il 21 marzo duemilaventidue eh è stata approvata da parte del Consiglio la eh bussola strategica eh del strategic compass dell'Unione ehm che naturalmente era una eh uno strumento aperto diciamo fin dal 2020 doveva essere approvato appunto nel marzo del 2022 subito un'accelerazione ed anche un riorientamento naturalmente eh verso una eh un'unione che si esprime con eh con parole diciamo di di potenza di ehm piuttosto che di solidarietà diciamo in qualche modo non 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 approfondisco chiaramente questo tema eh peraltro eh già qualche durante il negoziato con qualche eh precedente eh intervento su Transform avevamo anche rilevato che per esempio nel corso del dibattito parlamentare eh del Parlamento europeo sull'abuso della strategia si era denunciata una scarsa trasparenza eh di queste proposte eh poiché ovviamente eh basate su documenti di intelligence eh nazionali dei vari paesi membri eh che non erano state rese noti neanche ai parlamentari eh vabbè questo diciamo una premessa doverosa eh vista la situazione in cui ci troviamo e e però ehm va detto anche che ehm ovviamente non c'è soltanto questo ehm e che comunque le politiche europee e anche la ehm la definizione delle normative no? Eh che venivano citate poco fa da Fiammetta eh vanno avanti ovviamente secondo il programma eh della commissione eh che eh inevitabilmente ehm soffre diciamo così di molte eh modifiche eh perché siamo in una situazione eh molto particolare che oltre appunto alle eh iniziative di cui parlavo relative agli armamenti eh si trova ad affrontare una problematica pesantissima sul piano della politica energetica eh in qualche modo. Ora su questo appunto questa cosa si interseca con i processi che sono che erano già in corso comunque e che e con i processi che che periodicamente la eh l'Unione Europea eh mette in atto. E prima di tutti eh il titolo di questo incontro la conferenza eh sul futuro dell'Europa eh che è partita appunto il 9 gennaio del 2021 e che si è conclusa il 9 gennaio 2022 con una serie di quarantanove proposte eh che eh nel nel merito delle proposte chiaramente non entro ha già accennato qualcosa eh Fiammetta da Muni. Ehm diciamo l'aspetto che in qualche modo volevo mettere in rilievo è eh il fatto che questo processo si è basato su una una partecipazione eh molto accentuata dei sia dei cittadini che delle associazioni che di eh anche delle istituzioni a cui si faceva riferimento prima dei parlamenti nazionali eh e di tutte le istituzioni naturalmente che sono state coinvolte in questo processo eh che ha visto vabbè poi ci sono anche statistiche della partecipazione sulle eh sui siti della conferenza. Ehm una partecipazione molto eh accentuata eh direttamente con contributi da parte dei cittadini eh con la l'organizzazione di eventi che è andata avanti per per tutto quest'anno, per tutto l'anno trascorso. Ehm ad esito di della conferenza il Parlamento Europeo ha eh approvato il 4 maggio una risoluzione eh nella quale si stabilisce il seguito che dovrà essere dato alla conferenza. Eh è una risoluzione che mi sembra abbastanza eh interessante probabilmente anche innovativa nel senso a cui pure si accennava prima. Intanto vabbè eh il Parlamento esprime soddisfazione per le proposte che sono state formulate eh auspica il rafforzamento del dialogo e della cooperazione fra i Parlamenti nazionali e il Parlamento europeo e chiede un ruolo più incisivo nel processo decisionale dell'Unione che può andare di pari passo con istituzioni più democratiche e più trasparenti. Ehm richiama il Parlamento l'attenzione sul fatto che problematiche eh gravi, crisi che si stanno appunto verificando ehm negli ultimi anni parla a partire dalla pandemia fino alla guerra insomma non so se riusciamo a immaginarci qualcosa di più grave eh richiedono soluzioni comuni a livello europeo e anche la necessità di un'unione eh geopoliticamente più forte. Ehm l'altro aspetto importante è che il Parlamento ritiene che tutte le azioni che sono state messe in atto a contrasto della pandemia eh da Covid-19 dovranno essere trasformate in un quadro nuovo istituzionale permanente e che eh una maggior integrazione politica eh e democratica eh potrà essere conseguita soltanto conferendo un diritto di iniziativa legislativa al Parlamento europeo e questo è un punto che mi pare molto importante e abolendo appunto il voto all'unanimità in seno al Consiglio. Eh queste modifiche, queste innovazioni richiedono una modifiche dei trattati e quindi il Parlamento chiede la convocazione di una convenzione eh attivando la procedura dei trattati previsti dall'articolo quarantotto del trattato appunto dell'Unione Europea eh e ha invitato la Commissione degli Affari Istituzionali ad avviare eh le necessarie procedure. Eh dal conto suo la eh presidente von der Leyen ha apprezzato diciamo i risultati della eh della conferenza dichiarando che la Commissione lavorerà per mettere in atto le proposte che sono emerse in alcuni settori rafforzando delle iniziative che sono già in campo come per esempio il Green Deal, il pacchetto Fit for 55, eh la proposta in materia di salario minimo che è una delle eh richieste che sono emerse dalla conferenza. Eh la proposta dello spazio lo spazio europeo dei diritti sanitari. Ehm poi a settembre saranno nella corso della ehm discorso sulla Stato dell'Unione eh che fa eh la presidente della Commissione ogni anno si annunceranno altre iniziative. Eh anche eh la Commissione sostanzialmente eh sostiene il principio del eh il superamento del principio dell'unanimità eh e quindi eh però su questa cosa si chiede diciamo se si può lavorare nell'ambito dei trattati esistenti appunto oppure bisognerà eh modificarli. Ehm il Consiglio e cioè sostanzialmente il presidente Macron eh il presidente di turno del Consiglio ehm ha appoggiato la eh posizione del Parlamento europeo eh e quindi ha eh si è reso favorevole alla convocazione della Convenzione per la modifica dei trattati eh stimolando insomma eh una creazione di di un consenso attorno a questa ipotesi nel ambito del Consiglio europeo del ventitré e del ventiquattro giugno prossimo vedremo come si mettono eh tutti gli stati membri. Ehm quindi vabbè maggiore ricorso appunto la maggioranza qualificata e eh una riflessione sulla legittimità del controllo democratico a partire appunto dal diritto d'iniziativa del Parlamento europeo. Eh Macron ha anche immaginato qualche anche diciamo avanzato qualche idea sull'architettura della eh della nuova Unione europea e immaginando un'Europa a più velocità ehm con un nucleo diciamo eh più convergente al centro dell'Europa eh senza escludere nessuno ma testualmente impedendo che i più scettici o esitanti rallentino tali processi. Eh ha detto che vede ovviamente favorevolmente eh l'aspirazione dell'Ucraina a far parte dell'Unione tuttavia ehm si può eh concedere rapidamente lo status di candidato eh all'adesione ma il processo per l'adesione richiede molti anni. Eh e quindi dice che sarebbe necessario ripensare la geografia appunto dell'architettura del continente europeo. Eh ha avanzato una proposta l'idea quindi di creare una comunità politica più ampia rispetto all'Unione europea richiamando una proposta di Mitterrand del del 1989 ehm e l'appartenenza appunto a questa comunità da un lato non pregiudicherebbe la futura adesione all'Unione europea e anche non sarebbe chiusa a chi l'ha lasciata riferendosi chiaramente esplicitamente al Regno Unito. Eh ma dal punto di vista della partecipazione dei cittadini all'artecipazione diretta dei cittadini non è soltanto sul terreno della conferenza eh sul futuro dell'Europa che ehm che si è esercitato appunto questo eh questa modalità di partecipazione. ehm infatti anche sulla riforma della governance economica europea eh la commissione aveva lanciato già nel novembre del duemilaventuno eh poi a causa della pandemia era stata eh interrotta una consultazione sulla riforma della governance. Ora questa consultazione è stata ripresa e si è conclusa a eh dicembre del duemilaventuno. Eh era stata lanciata nel novembre duemilaventuno ovviamente del duemiladiciannove e con questi anni la pandemia diciamo ci hanno anche un po' scombussolato eh le tempistiche. E era stata chiusa e poi è stata riaperta appunto ed è stata chiusa nel dicembre del duemilaventuno. ehm e ha avuto una buona partecipazione eh sono stati raccolti eh 225 contributi da 25 paesi diversi fra i quali quattro paesi che non appartengono eh all'Unione. Non so bene quali sono siano questi paesi. E molte proposte sono state inviate da soggetti non istituzionali quindi da cittadini, associazioni eh o anche eh soggetti diciamo stakeholders come istituzioni, centri di ricerca, eh oppure in università o altri soggetti di questo genere. Ehm naturalmente le risposte non rispecchiano la volontà diciamo dei cittadini e dell'Unione ma si trattava naturalmente di un tema molto abbastanza tecnico per cui su cui tra l'altro su Transform avevamo eh scritto avevamo anche eh promosso insomma queste iniziative promosso la partecipazione. Peraltro pare che la maggioranza dei eh delle risposte siano arrivate proprio dall'Italia. Ehm e sostanzialmente eh la maggioranza delle risposte appunto richiamano un consenso verso una riforma delle regole fiscali eh ma non necessariamente eh anche fra gli addetti eh ai lavori eh queste riforme contemplano la eh queste richieste diciamo di riforme contemplano un allentamento della disciplina fiscale e quindi anche in questo caso bisogna sempre vedere eh la posizione poi dei singoli stati membri. eh come dicevo eh la i processi naturalmente le politiche eh non non si fermano vanno avanti eh e di qualche giorno fa eh reso più urgente eh anche dalla crisi eh energetica nella quale ci troviamo eh lì la l'adozione di questa iniziativa che si chiama questo piano si chiama Repower EU eh che è finalizzato a interrompere la dipendenza dell'Unione dai combustibili eh fossili della Russia. Ehm e quindi di metterci in grado meglio di affrontare meglio la crisi climatica che ci troviamo di fronte. Eh queste le misure quindi sono orientate a risparmio energetico, la diversificazione dell'approvvigionamento, una più rapida diffusione delle energie rinnovabili eh è stato detto no che entro il duemila si è letto sul giornale entro duemilaventinove eh tutti i tetti di tutte le case dovranno avere eh cioè pannelli fotovoltaici. Eh e questa cosa appunto è vista come un contributo alla crescita economica, la sicurezza e all'azione per il clima che comunque eh era già stabilita nel Green Deal eh e anche in risposta agli obiettivi eh delle Nazioni Unite per il 2030. Come si fa questa cosa? Si fa attraverso una modifica eh regolamentare del eh eh Resilience eh Resilience and Reform Facility insomma della eh parte del regolamento che sta alla base eh di Next Generation EU, quello che finanzia sostanzialmente i piani nazionali di ripresa e residenza. Eh quindi c'è una proposta di modifica del regolamento, regolamento che era stato approvato a luglio duemilaventuno eh per integrare dei capitoli specifici Repower EU eh nell'ambito dei piani di ripresa e residenza degli stati membri. Eh questa cosa eh che cosa ci dice? Intanto che lo strumento di Next Generation EU eh è sostanzialmente diventato centrale nelle politiche de eh dell'Unione Europea. Eh e questa cosa diciamo ci ehm ci aiuta eh nel senso di una unione più solidale, ne abbiamo parlato eh in tante volte, ne abbiamo scritto anche su Transform tante volte eh il principio su cui si basa Next Generation EU è che ciascun paese ehm riceve un contributo, una delle sovvenzioni sulla base eh diciamo dei bisogni nel senso dei paesi che ne hanno più bisogno ricevono una maggiore maggiore contributo ehm attuando in qualche modo un effettivo trasferimento di risorse dai più ricchi ai paesi che ne hanno più bisogno. Ehm e si aggiungono questi nuovi ehm questi nuovi obiettivi o meglio si rafforzano obiettivi che erano già previsti però in una direzione più specifica che si è resa necessario nelle nella contingenza in cui ci troviamo. Eh l'ultima cosa. Ecco no scusami. No no cinque minuti. Sì l'ultima cosa a cui voglio accennare è che nel frattempo appunto ieri se non mi sbaglio ehm sono uscite le famose raccomandazioni cioè c'è è stato pubblicato il pacchetto di primavera della eh della della governanza europea appunto eh e sono state pubblicate quindi anche a parte delle previsioni che sono ovviamente peggiori diciamo di quelle precedenti eh sono state pubblicate delle famose famigerate raccomandazioni per paese eh della commissione. Eh ora queste raccomandazioni ehm per l'Italia eh leggo qualcosa molto velocemente eh intanto si concentrano ovviamente sul bilancio perché il primo eh la prima raccomandazione riguarda ovviamente la parte economica eh e eh dove si richiede di assicurare una politica di bilancio prudente limitando la crescita della spesa corrente finanziata a livello nazionale al di sotto della crescita del prodotto potenziale a medio termine questa cosa del prodotto potenziale a medio termine è molto discutibile ne abbiamo discorso continueremo a discutere ehm d'altronde però si richiede si raccomanda eh di eh aumentare gli investimenti pubblici soprattutto per la transizione verde e digitale eh avvalendosi sia del dispositivo per la ripresa della resilienza di questo piano Repower EU eh e di operare eh in una politica di bilancio che consenta eh di assicurare una riduzione graduale e credibile del debito. Eh un'altra raccomandazione riguarda la legge delega sulla riforma fiscale se ne parla anche in questi giorni la eh razionalizzazione e la riduzione delle spese fiscali per l'IVA eh quelli le sovvenzioni dannose per l'ambiente eh la l'efficienza migliorare l'efficienza del sistema compreso eh la riforma e le forme sul catastro di cui in questi giorni eh siamo leggendo noi siamo assolutamente sui giornali. Eh poi ci vabbè si raccomanda di procedere con l'attuazione del piano per la ripresa della resilienza di concludere rapidamente i negoziati per la politica di coesione che invece sono fermi cioè che non stanno andando avanti molto a rilento eh e di ridurre la dipendenza dei combustibili fossili e diversificare le importazioni di energia. Eh quindi diciamo raccomandazioni molto eh anche più sintetiche di quelle degli anni passati. Eh il ministro Brunetta ha subito detto che finalmente non ci sono eh raccomandazioni per la pubblica amministrazione che invece erano sempre ricorrenti. Eh il fatto è che tutte quelle raccomandazioni che erano ricorrenti attualmente sono dentro il piano nazionale di ripresa e resilienza che è diventato un piano nazionale di riforme più grande e più ampio ma almeno diciamo eh ci ci danno delle risorse a fronte delle risorse delle delle riforme che dobbiamo fare. E quindi in sintesi eh questa situazione chiaramente eh sconvolge eh politiche e eh i processi dentro l'Unione eh le con i procedimenti comunque le cose insomma vanno avanti e mi sembra una novità di rilievo perché ne avevamo sempre anche eh parlato eh la l'apertura la possibilità di modificare i trattati con l'iniziativa del Parlamento e con eh il superamento della del voto all'unanimità. Eh vabbè mi fermo qua. Grazie. Grazie grazie Paola Boffo e ovviamente un intervento che suscita molte eh riflessioni a cominciare per esempio da quella sulla difesa comune europea perché noi stiamo andando prima abbiamo fatto una moneta senza Stato ora andiamo verso un esercito senza Stato e e di questo pochi pochi scrivono nel senso che quasi si ha un timore reverenziale perché c'è la guerra non si può dire e quindi poi l'altra cosa che mi ha colpito ecco il metodo convenzione il metodo convenzione per riformare i trattati eh sul quale io personalmente sono eh assolutamente contraria perché il metodo convenzione ha partorito quel il trattato che istituisce la Costituzione europea che era quella specie di aborto perché non si non si istituisce una Costituzione ma semmai si convoca una Costituente che fa una Costituzione quindi questo metodo convenzione ma poi anche tante altre cose che detto questa questa guida dei big four eh i quattro grandi che dovrebbero mettersi praticamente l'Europa dovrebbe diventare una cosa a cerchi concentrici con attrazione francese perché la Francia si sta proponendo come la 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 leader dell'Unione e accontenta anche perché così se la tiene dentro la Germania che ogni tanto se ne scappa di più verso gli Stati Uniti l'Italia pure la Spagna fine poi dopo via man mano c'è questo allargamento di cerchi e allora mi chiedo e vi chiedo a voi illustri relatori ma siamo sicuri che questa è l'Europa politica eh che avevamo in te che avevano in testa eh tanti anni fa a metà del secolo scorso che abbiamo in testa noi cioè eh ma non ci conviene forse eh visto che qui vedo tanti economisti eh collegati cioè eh voi ci insegnate che esistono tanti diversi di integrazione tanti diversi livelli di integrazione economica e l'Unione Europea è il livello più avanzato di integrazione economica la butto lì un po' come una provocazione non converrebbe forse fermarci all'integrazione economica e la politica farla fare invece a chi sa farla o a chi la fa in maniera più democratica rispetto a quest'Unione però appunto io mi diverto a provocare e quindi passo la parola subito a Roberto Musacchio che eh ci racconterà lui che cosa hai intravisto in questi no guarda hai fatto delle domande che fanno perfettamente da punta tra le cose che diceva Paola eh boffo e quelle che volevo dire io eh che in realtà volevo proprio porre questa questione di fondo che tra noi dobbiamo a questo punto affrontare cioè eh se questo procedere per funzioni che creano eh l'organo per stare alla definizione di funzionalismo cioè per funzioni che creano l'Europa eh sia trasformabile in un'Europa democratica oppure se ha bisogno di un momento di rottura e e come determinarla questo momento di rottura. Da questo punto di vista eh io mi sono proposto nel prepararmi anche un esercizio un po' storico cioè sono andato a rivedere anche un po' di passaggi che poi vi riproporrò eh che fanno perno eh su Enrico Berlinguer perché tra l'altro questo nostro appuntamento capita eh un giorno prima del centenario della nascita di Berlinguer quindi eh ho rivisto alcune cose che meritorialmente futura umanità che è un'associazione appunto che che ripercorre la storia anche eh del partito comunista italiano proiettandosi verso il futuro ha messo a disposizione con un convegno fatto quattro anni fa tre anni fa eh sulla questione di Berlinguer e l'Europa. Anche perché sono molto allarmato dalla situazione presente. Adesso tu hai detto una battuta. Io ho detto spesso che abbiamo eh diciamo una banca senza Stato no? Eh tu adesso hai detto abbiamo un esercito senza Stato. No noi abbiamo una spesa militare senza esercito oltre che senza Stato. Cioè in realtà eh viene replicata sulla questione militare la stessa operazione che è stata fatta sulla pandemia e sulla sanità. Cioè noi non abbiamo investito sulla sanità o su eh sull'Europa della salute. Noi abbiamo investito sulle multinazionali. Eh il problema di fondo è che quella che è stata edificata è una sorta di piattaforma di mercato eh che doveva galleggiare nella globalizzazione che l'Unione Europea e che peraltro adesso attraverso il riemergere dei grandi conflitti politici eh rischia di andare anche in contraddizione con questa sua caratterizzazione eh essendo la struttura economica più eh dipendente dal mercato globale in quanto ha cresciuto di circa venti punti in pochi anni e la quota di PIL eh derivante dagli scambi commerciali si trova adesso a inventarsi una regionalizzazione neoatlantica come l'ha proposta la eh signora Lagarde che francamente così come le proposte di fuoriuscita dalla dipendenza eh sono terminologie assurde cioè che significa la dipendenza energetica eh di fronte a un soggetto tutto proiettato nella globalizzazione posso parlare io di dipendenza energetica perché penso eh a una una capacità economica autocentrata ecologicamente determinata ma qui siamo come sempre assistendo a un uso truffaldino delle parole che 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 accompagnano la sostituzione di un mercato con un altro con conseguenze peraltro drammatiche e quindi io penso che dobbiamo vedere com'è il presente appunto questa storia dell'imposizione della spesa militare è paradigmatica eh perché non corrisponde a nessun esercito e tantomeno a nessuno Stato viene data una spesa militare a eserciti che sostanzialmente dipendono dalla Nato il comando militare viene affidato alla Nato e contemporaneamente abbiamo nel percorso della guerra in Ucraina vicende che sono incredibili e io considero le dichiarazioni eh di FON3 eh di Ursula von der Leyen e Borrelle eh fuori da qualsiasi tollerabilità democratica cioè l'uso della eh dell'obiettivo vinceremo dove è stato definito cioè chi ha definito le regole di ingaggio in questa guerra quale parlamenti eh hanno definito queste regole di ingaggio francamente incredibile inverosimile e anche un po' eh un'armata brancaleone perché nel frattempo domani si vota in questi giorni si vota in Danimarca un referendum ehm rispetto a alla eh priorità danese sulla spesa militare e quindi non allargare la spesa militare europea e contemporaneamente la Finlandia e la Svezia entrano dentro la Nato insomma veramente una cosa che è incredibile eh che 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 dimostra che non siamo di fronte a classi dirigenti ma siamo di fronte a dominanti eh legati tra di loro da una relazione globale che è fatta di momenti di collaborazione di momenti in cui si sbranano scusate la diciamo la semplificazione e che non hanno più nessun senso della rappresentanza sono una categoria dei dominanti che in particolare in Europa ha preso le sembianze sempre più evidenti di un patto eh oramai palese tra le governance burocratiche e e e i nazionalisti e insomma eh vediamo alla prova dei fatti cioè la famosa reproba Polonia è diventata a parte che gli hanno fatto passare tutto eh non c'è più nessun condizionamento mentre a noi vengono imposti dei condizionamenti che sono veramente pesanti perché il riferimento alla spesa consolidata è un riferimento è un attacco diretto al monte salariale italiano che peraltro ha subito in questi trent'anni ehm di colpi pesantissimi noi siamo l'unico paese d'Europa che c'è un monte salario che c'ha i salari medi inferiori a quelli del 1990 e c'è la messa eh eh della fiducia sul decreto concorrenza eh ragazzi più di questo che cosa dobbiamo eh che cosa dobbiamo fare il riferimento alle pensioni c'è ancora e c'è la questione della pubblica amministrazione è veramente clamorosa la più vecchia di d'Europa e contemporaneamente con l'impossibilità di investire con l'impossibilità di andare in pensione. Allora eh su questo eh patto eh scellerato tra governance e nazionalismi è quello che viene riproposto eh dal doppio livello eh che è una rielaborazione della vecchia doppia velocità cara ai socialisti europei ma in una salsa veramente volgare eh cioè è diverso quello che pensa Letta da quello che pensa Macron ma poi alla fine succede che sostanzialmente alla proposta che costruisce Letta eh è quella di una eh eh si parla molto di eh l'Europa dei valori è uscita fuori questa cosa dell'Europa dei valori di cui ha parlato moltissimo letta ha parlato moltissimo anche Draghi so l'Europa dei valori è l'Europa che costruisce e che considera un nemico storico cioè la Russia che costruisce e considera una collocazione valoriale quella occidentale e e e e e e su questo costruisce un modello che dovrebbe essere più capace di dirigismo interno ma insomma questa cosa del voto a maggioranza a me pare una gran chiacchiera sono i fatti che determinano eh gli elementi di decisione questi delle regole se ne strafregano e sanno benissimo che quella regola non si cambierà ma insomma non non è ostativa a fare tutto quello che fanno cioè non è che qualcuno si alza e dice scusa Borrella a nome di chi parli non fa praticamente eh nessuno con poi questo eh ipotesi confederale eh che è precisamente quella che piace a Meloni cioè che differenza c'è con l'Europa delle nazioni che di cui ha sempre parlato Meloni alla destra e e peraltro con questo secondo cerchio che che altro che essere quello che che va più lento è quello che traina in questo momento l'Unione Europea è trainata da fuori dalla Gran Bretagna da dentro dalla Polonia quindi francamente cioè e peraltro il soggetto dominante per tutto questo periodo che la Germania è in una crisi profonda politica profonda alle prese con il problema di giudicare l'operato di Schroeder e con elezioni regionali dei dei Lende e la Vesfaglia adesso con con un aumento della 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 stensione di dodici tredici punti e una vittoria dalla Sede U e con la stagflazione perché le previsioni eh finanziarie avanzate all'Europa parlano apertamente che siamo in una fase di stagflazione da cui non si vede uscita perché tutto ciò che viene proposto cioè il regionalismo neoatlantico della signora eh come si chiama la banchiera non sta né in cielo né in terra ora non sono gli economisti ma io di energia ci capisco nel senso che ho fatto per anni eh l'ambiente responsabile dell'ambiente del partito comunista italiano eh veramente di vendere frescacce bisogna evitare cioè non c'è nessuna possibilità di uscire di una transizione che in quarantotto mesi passa tutta la rinnovabili e fa meno cioè vendiamo frescacce cosa che un gruppo dirigente una classe dirigente non dovrebbe fare però per questo dico che la situazione è diventata talmente grave perché io penso che noi siamo dentro una guerra mondiale a me non convince l'idea che eh che ci siano state due guerre prima una regionale della Russia contro eh contro l'Ucraina e poi quella mondiale subentrata per l'intervento da Nato. Io penso che dall'inizio c'è una confrontazione mondiale che vede protagonista la Russia e da questo punto di vista attribuisco più responsabilità a Putin di quelle che ne attribuiscono altri eh ma vede dall'inizio una confrontazione con gli Stati Uniti con la Nato con imballo e imballo da tutti i punti di vista sia come eh come come meta appetita e come parte del ballo la Cina e tutti gli equilibri internazionali cioè non si fa sto casino per per due regioni dell'Ucraina o per l'allargamento un po' di di Nato e eh quello che che sapevamo sono trent'anni che noi siamo dentro un percorso che abbiamo definito sul transform eh eh della guerra dei trent'anni che ha riguardato in primo luogo la stessa Unione Europe che viene da lontano questo io eh penso che dobbiamo un po' cercare di ricostruirlo noi abbiamo provato a farlo no? A un certo punto per questa guerra abbiamo parlato della necessità di fare una Yalta eh due punto zero che è stata anche molto discussa tra di noi perché molti vedono in Yalta un elemento spartitorio. Io penso che fosse giusto fare il riferimento perché Yalta è la fine della seconda guerra mondiale, l'ipotesi della pace come l'ipotesi eh imprescindibile, è la nascita dell'ONU e in qualche modo qualcosa che precede la spartizione cioè il riconoscimento di modelli sociali diversi come quelli che si avevano contribuito nell'alleanza contro il nazifascismo alla vittoria. È chiaro che poi era una spartizione ma era un'idea diciamo globale eh di equilibrio. Eh mi sono andato a rivedere un po' di Togliatti prima di Berlinguer insomma dentro quel quadro eh Togliatti non possiamo definirlo un europeista classico assolutamente no cioè l'atteggiamento del partito comunista italiano è molto prudente verso l'inizio dell'avvio del processo di integrazione europea. Non ostile però molto prudente perché eh abbiamo quelli che io definirei eh filosoficamente politicamente doppi movimenti in campo. Abbiamo da una parte il consolidarsi delle costituzioni democratiche che era un gran problema e tuttora è un problema che lo era nel mediato dopo guerra rispetto al quale poi si innessa un percorso che è quello invece di costruzione dell'Europa che pochi guardano pochi capiscono che viene da lontano come cultura in Italia dal federalismo storico italiano e poi naturalmente da eh da vento tempo. Abbiamo da una parte l'Europa sociale e poi dall'altra parte che che prende piede attraverso le costituzioni dall'altra parte l'Europa centrata sull'economia della ricostruzione e lì eh quando tu mi dici economia da una parte politica dall'altra insomma le due cose è difficile separarle ma insomma quella della ricostruzione dell'acciaio del carbone così e dal punto di vista geopolitico c'è questo problema eh appunto di che cosa può rappresentare l'Europa dopo gli alta. Ora nella visione credo del partito comunista togliattiano c'è l'idea che questi equilibri sono dati e che possono essere eh diciamo ehm evoluti in senso internazionalista attraverso un rapporto tra gli stati e in senso democratico attraverso i i movimenti di liberazione nazionale in particolare quelli che attraversano soprattutto i paesi sottoposti al processo di colonizzazione. Diciamo che questo mi è imparso di ricostruire con i miei strumenti con le mie capacità diciamo il percorso togliattiano. Eh questo percorso cambia con eh Berlinguerre anche perché sono cambiati diciamo i tempi e sostanzialmente nasce quell'idea a cui io rimango molto legato che è quella dell'Europa dall'Atlantica agli Urali eh dell'Europa capace di avere una relazione eh organica con la Russia e contemporaneamente con il Mediterraneo. Eh di un'Europa che eh si costruisce eh come ehm uso le parole di Berlinguerre come luogo della terza via dell'eurocomunismo e quindi lanciando una sfida sulla democrazia rispetto ai processi funzionalistici. Eh leggete domani vi proporremo un testo, un pezzo su Transform di questo, questo scritti di Berlinguerre che sono collezionati anche in un libro proprio Berlinguerre dell'Europa sono interessanti perché vedi il rigore anche del partito comunista italiano fino a Enrico Berlinguerre dico io fino a Natta poi cominciava un'altra storia. E lì c'è anche un dialogo con Spinelli che non è mai facile insomma Spinelli è un uomo che ha pensato anche eh diciamo in Europa in qualche modo eh eh che che avesse anche alcuni elementi di eh di di rottura anche con l'Unione Sovietica ma nei momenti cardine eh c'è eh anche quando Berlinguerre accetta la questione della Nato in modo complesso perché le semplificazioni che vanno in giro in questo momento sono appunto semplificazioni assolutamente eh ad uso delfini cioè nel senso che non è così cioè non è che lui preferiva la Nato lui si colloca laddove sta eh perché pensa che non può cambiare gli equilibri generali eh dà un giudizio naturalmente su quello che succede all'Esse ma chiede anche una capacità di decisionale e naturalmente c'era il patto anniversario che peraltro era nato dopo la Nato prima nasce la Nato e poi il patto eh di Varsali e tant'è vero che in quegli anni mh ci sono due elementi importanti che che io sottolineo uno che il Partito Comunista è contro il sistema monetario europeo vota contro nonostante che sia dentro la fase eh dei governi di larga intese eh chiede lo split sulla votazione eh del dispositivo con la malfa che si arrabbia moltissimo eh eh ma sul meccanismo della visione allo smech è un no netto contrario del Partito Comunista che considera quello un problema molto serio per la capacità esportativa del paese e quindi per la sua eh crescita e il suo sviluppo. E poi c'è tutta la battaglia sugli euro messi che parla la sola. Cioè è già il berlinguer della Nato e che però è in campo fino in fondo sugli euro messi insieme ai ai movimenti appunto quelli dei noi messi e sia la pace e all'Europa dall'Atlantico e agli urani. E io penso che ci fossero sponde importanti con Brandt con Palm eh diciamo una potessibilità diversa che è stata uccisa. Eh è stata uccisa che cosa? Da che cosa? Dall'avvio del percorso di globalizzazione capitalistica che viene da lontano eh che viene da dalla reazione alla sconfitta nel Vietnam eccetera eccetera l'abbiamo parlato tante volte e che in Europa c'è una data precisa si chiama Maastricht e si chiama la costruzione di un della costituzionalizzazione dell'ordoliberalismo. E le coincidenze delle date sono impressionanti. Scioglimento del PC, Maastricht e via la scala mobile stanno più o meno cioè i patti di eh di di luglio concertativi sindacali quindi cambiamento dalla natura del soggetto politico e del soggetto sociale nello stesso tempo in un paese difficile come l'Italia è lì che comincia il rovesciamento del caso italiano nel suo contrario dal punto più avanzato a quello che siamo diventati adesso il punto più alle tre. E sono trent'anni che vanno letti quelli dall'ottantanava voce. Abbiamo detto noi l'abbiamo fatto con Transport ma avvalendoci anche del materiale che veniva dalle Montplomatic che dal punto rivista proprio dall'analisi demografica legge questi trent'anni come quelli che determinano effetti quali quelli di una guerra. Pensare tanto per dire io ho visto il primo articolo che ho fatto per Transforma nella nuova serie e cominciava con la parola l'Ucraina. Perché? Perché l'Ucraina era presa a riferimento da le Mont Diplomatique come modello di che cosa significava l'impatto liberista nei rapporti tra l'est e l'ovest dell'Europa. Mentre durante gli anni eh appunto del muro paradossalmente l'andamento demografico dell'Ucraina assomigliava a quello della Francia dopo il l'ottantanove l'Ucraina perde sette milioni di abitanti in un complesso di venti milioni di abitanti persi dall'est eh con tre fattori che si sommano eh riduzione dell'aspettativa di vita eh emigrazione fortissima a livelli africani e e e verso soprattutto i paesi che pagano di più quelli che sono peraltro scolarizzati come erano tutti questi lavoratori dell'est Ucraina ma come l'Ucraina l'Ungheria eh la la Cecchia poi e così e e e e quindi si determinano anche le condizioni di tensioni che 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 poi abbiamo visto sono esplose con i nazionalismi eccetera eccetera. Peraltro c'è un cambiamento radicale delle frontiere. Io io rimango basito di fronte a quelli che dicono che l'elemento cardine della trattativa tra Russia e Ucraina è il non toccare le frontiere. L'Europa del dopo ottantanove nasce con il cambiamento radicale delle frontiere. La prima frontiera che cambia radicalmente si chiama Germania. Ce n'erano due se ne è fatta una. E fu un cambiamento epocale. Invito i signori che parlano di eh di eh diritto internazionale a partire dall'impiolabilità delle frontiere a farmi vedere dove sta la Cecoslovacchia o a ricostruire la Jugoslavia. E siamo di fronte veramente a una mistificazione della storia che è insostenibile. Poi abbiamo avuto il salto di qualità del funzionalismo che è quello eh che è stato consentito da Mastri. E come devo andare verso la fine verifichiamo le tre grandi crisi come sono state affrontate. Eh la crisi finanziaria importata dagli Stati Uniti ed esportata contro i cittadini europei edificando l'austerità che è una eh è una forma eh come si può dire eh eh che porta indietro la concezione dello Stato a prima eh eh degli statuti albertini perché è imposta ai cittadini. È uno Stato contro i cittadini dal punto di vista fiscale perché lo Stato impone ai cittadini di pagare più di quello che i cittadini prendono dallo Stato. Cosa che è contro eh eh i principi delle rivoluzioni borghese. La pandemia è stata già stita in opposizione radicale alla liberalizzazione dei brevetti sulle sulle eh sui eh su i vaccini e attraverso la totale osmosi tra i gruppi eh dei dominanti eh politici e eh eh ed economici e finanziari e gli effetti li vediamo adesso in dire che piangiamo sull'aumento delle ricchezze perché questo è e la guerra come dicevo prima è gestita attraverso il mercato delle armi eh riconosciuto come soggetto fondante il funzionalismo bellico che piace eh a a Letta, a Macron, a von der Leyen, a tutti i dominanti europei eh privo di qualsiasi contrattare eh dal punto di vista delle regole elementari che valevano pure del medioevo che c'era un principe a cui qualcuno rispondeva. Allora io penso che eh tutto questo avviene in un quadro eh di stagflazione drammatica che io non so quanto reggerà la Germania. E giustamente Paola diceva la Francia ma la Germania sta sotto uno stress secondo me mai visto perché è un paese che si trova quasi l'otto per cento all'inflazione e la crescita è e e con la difficoltà a fare i surplus economici che era abituato a fare e con un indirizzo contro natura che è quello di costruire una eh realtà economica euroatlantica che non esiste, non esiste in natura, esiste una realtà europolitica dominante come articolazione della dominanza che è l'euroatlantica. Da questo punto di vista le proposte di riforma si muovono purtroppo in questa direzione ma si muovono io dubito che si muoveranno in modo effettivo, si muovono nei fatti come sempre hanno fatto. Come si dice il potere poggia sulla canna del fucile si diceva un tempo ma purtroppo lo slogan rivoluzionario si è trasformato in uno slogan ad uso e consumo delle borghesia dominanti e dei loro accordi eh più o meno armati. E dunque non so, so che bisogna andare con un elemento di dottura rispetto a quello che c'è. E come fare è un bel bel problema perché il funzionalismo ha eh non ha costruito, ha impedito la costruzione degli anticorpi democratici. Non ci sono soggettività democratici europei eh eh è proprio complicato. Però io credo che insomma noi in questa direzione dobbiamo andare anche perché eh eh tornare all'idea del eh della rielificazione degli stati francamente mi sembra come si può dire cullarsi in un sogno che non eh che non corrisponde. Anzi io penso che proprio non aver fatto la battaglia eh per eh subendo l'iniziativa borghese su questo fronte dell'edificazione europea sia stato il più grande dramma del movimento operaio eh insieme a a al disastro del socialismo reale. Eh io penso che bisogna eh porre alcuni elementi. Uno viene dal programma europeo di francese della sinistra francese. Temo questo tema che noi avevamo sollevato eh ci hanno guardato con la puzza sotto il naso come se fossimo un po' così della disobbedienza costituzionale è un tema che io credo che abbia una sua pregnanza. Eh peraltro un tema che è stato attivo anche nella realtà. Io ricordo che eh alcune delle misure più drammatiche, più drassiche, più antipopolari della troica in Portogallo furono bocciate dalla corte costituzionale portoghese proprio il nome della costituzione portoghese. Un articolo molto semplice eh eh i governanti non possono fare misure che eh portino le sofferenze del popolo oltre certi limiti. Adesso ve l'ho detta in volgare ma è scritto non molto diversamente in quella costituzione non a caso frutto da una rivoluzione. La seconda eh è chiaro che è frutto di tutto ciò che non c'è. e noi ci dobbiamo interrogare molto su che però la natura dell'incontro è questa. Io sono per una contrapposizione fronta frontale tra l'interparlamentarismo e l'intergovernativismo. Cioè io sono per rompere il fronte eh del eh del patto di dominanti che si realizza intorno alla eh concezione di governance politica ed ego. Sono contro l'intergovernativismo. e sono per una forma di interparlamentarismo. Cosa complicatissima perché i parlamenti sono di tutti come sono ma l'unica cosa che si può fare secondo me come proposta. E quindi sono contrario alle confederazioni di letta, sono contrario alle elezioni di letta del presidente della commissione europea eccetera eccetera. Sono perché eh si realizzi una capacità eh innanzitutto di determinare un'effettiva sovranità europea e io sono a favore dell'elezione per liste europee del parlamento europeo e naturalmente della sua eh potestà legislativa che però deve essere potestà effettiva e quindi ti dirà che il soggetto eh legiferante è il parlamento ed è il parlamento che ha il potere sugli organi esecutivi. Dalla banca a questi commissari eh presi per non so da dove e che eh assurdo una ruoli senza senso e e a costruire forme di interparlamentarismo rispetto alle questioni fondamentali la prima di tutte è quella del bilancio. Cioè dovrebbero esserci sedute di bilancio tra i parlamenti a un parlamento europeo e i parlamenti nazionali. La realtà è molto più semplice di quello che appare in realtà perché sono cose che si possono tranquillamente fare eh avendo questa volontà. Invece la volontà è stata contraria quella di svuotare anche i parlamenti nazionali. Però per esempio i miei colleghi parlamentari europei inglesi erano membri di diritto anche delle commissioni del loro parlamento nazionale e quindi partecipavano alle loro commissioni per dire un esempio. Ci sono elementi eccetera eccetera che possono essere evoluti in questa direzione. Come bisogna riprendere eh l'iniziativa su quell'Europa cioè dall'Atlantico agli Urali e eh e con una centralità meriterranea che era già abbozzata. Io penso alla trasformazione di Euromed in una struttura reale anche di cittadinanza allargata e e penso che l'esclusione della Russia dal Consiglio europeo sia una cosa folle, assurda, bisogna recuperare una capacità eh di relazione con con la Russia e e con la stessa Turchia. Io l'unica cosa su cui sono stato d'accordo nella vita con Prodi era l'allargamento della Turchia ma hanno sempre guardato tutti strano ma era la mia idea dell'Europa quella che appunto si allargava per modello sociale non per piattaforma economica della globalizzazione. E questo penso c'è però la rottura con questo che esiste adesso deve essere molto forte e io credo che in questo momento in particolare l'ETA per le sue caratteristiche di uomo inserito nella governance globale rappresenti eh l'avversario quasi fondamentale nella nell'idea di una costruzione di Europa democratica alternativa a quella Euroatlantica. Dico Letta per dire quel sistema là che vede Letta, Draghi ma che arriva fino a Fratelli d'Italia. Non a caso se devo pensare governi futuri posso pensare facilmente diciamo a governi europei che ormai si espandono in questa direzione. Grazie scusate un po' per l'articolazione della discussione. Grazie a te Roberto ecco appunto molto 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 interessante anche la tua relazione. Ho notato che dove ha terminato Paola ha incominciato te cioè eh Paola parlava di eh della richiesta di aumentare gli investimenti pubblici eh presente nelle raccomandazioni eh che sono state pubblicate ieri e tu hai incominciato eh proprio con ehm diciamo il tema del del degli investimenti che sono stati fatti sulle multinazionali. Io su questo vorrei anche dire che effettivamente c'è uno stimolo forte da parte dell'Unione agli investimenti che devono essere fatti dagli stati membri ma gli investimenti devono essere fatti dando soldi ai privati e quindi ecco qui che torniamo al discorso del neoliberismo del capitalismo cioè il privato che deve ricevere quattrini per saldare i propri debiti con le banche per far ripartire l'economia per poi guadagnarci lui perché come diceva giustamente Roberto i salari stanno sempre fermi allo stesso punto e con l'inflazione diciamo che stanno tornando ai tempi dell'antecristo. Mi è piaciuto molto eh la ricostruzione storica che hai fatto ehm ti devo dire che io eh molto apprezzato eh Togliatti perché eh il discorso dell'Europa dall'Atlantica Iurali parte da lui eh nelle discussioni in Parlamento per l'adesione alle tre comunità eh è vero il partito comunista e Togliatti era ovviamente ideologico non era preconcetto e questo molti non lo capiscono per cui eh Berlinguerpa si pone in linea di continuità è vero Togliatti è stato anche molto travagliato perché c'è stato il famoso 56 cioè lui non 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 ha patito anche molto quello che accaduto quello che la storia eh ha riservato al mondo durante quegli anni ma eh io penso appunto che Berlinguerpa si ponga in linea di si ponga in linea di continuità con il pensiero di Togliatti e anche se ripeto eh questi approfondimenti eh è difficile da ritrovarli perché ormai eh noi mi metto anche io per prima siamo tutti così un po' più superficiali non non ci rendiamo conto che se non andiamo a guardare nella storia nelle radici della nostra cultura noi riusciamo a spiegare i fenomeni attuali eh quindi eh le tre crisi gestite ma mia Maastricht Maastricht è figlia della fine della guerra fredda eh Maastricht e l'euro stanno lì non c'è niente da fare fine della guerra fredda che poi cioè come 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 diceva il Schmidt cioè l'America ha finito di ha finito con un nemico l'Unione Sovietica ha cominciato con un altro la Cina quindi forse c'è anche anche lì non c'è soluzione di continuità perché il nemico eh il il l'impero vuole il nemico non c'è niente da fare eh e se non c'è se lo crea e questo purtroppo ci porta appunto alla gestione delle crisi nel modo disastroso che avete detto eh io sul next generation sono meno ottimista di Paola eh perché appunto eh noi praticamente ci stiamo ci siamo fatti noi sapevamo abbiamo abbiamo sempre saputo quello che si doveva fare per il nostro paese abbiamo dovuto aspettare che fosse eh l'Europa a metterci i paletti a darci eh il timing lo schedule eh per per e e sbandierandoci i soldi perché se no ce li toglie se no non lo facevamo e l'ultima cosa è la governance questa parola che brutta parola è una parolaccia proprio questa della governance eh al massimo la governabilità cioè perché dobbiamo parlare di governance che è un un concetto così lontano diciamo dalle dalle nostre corde dalle corde di noi italiani perché non non ci appartiene e e quindi e e quindi niente eh molto 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 interessante entrambe e vorrei sapere eh e lo chiedo a tutti e due ehm il il problema perché secondo me oggi eh ovviamente il grande grandissimo problema è questo della difesa comune europea è quello del global gateway eh perché l'Europa per un momento ha pensato di poter diventare una superpotenza e di mettersi a fare lago della bilancia fra gli Stati Uniti la Cina la Russia e poi invece si è subito riallineata appena è stato eletto Biden si è eh subito riallineata a a lui al agli Stati Uniti alla Nato allora io appunto vorrei chiedere a voi ma anche a tutti eh i coloro che stanno partecipando qualcuno lo vedo qualcuno invece è oscurato eh come si fa a uscire da questa situazione di sudditanza eh nei confronti degli Stati Uniti ma soprattutto veramente vogliamo uscire cioè siamo sicuri che l'Europa voglia eh diventare una cosa autonoma mh forse la Francia ok ma eh io questa volontà non la vedo tantissimo anzi noi siamo il pilastro della Nato e degli Stati Uniti secondo me però ho visto che Franco Russo si è scritto a parlare quindi eh gli passo subito la parola immediatamente grazie Franco grazie consente accesso scusate ma mi fa sentire grazie mille e naturalmente grazie Fiammetta naturalmente le due relazioni hanno spaziato da come dire dalla geopolitica alla alla storia alle vicende invece della della conferenza sul futuro quindi intervenire non è assolutamente facile però mh insomma io alcune cose vorrei mh pronunciarmi ovviamente mh nel tempo brevissimo di un intervento dopo due relazioni abbastanza ampie però permettere a cioè per fare alcuni inviti il primo lo farei a Roberto nel senso che eh sarebbe interessante forse lo possiamo fare anche come osservatore sull'Unione Europea discutere diciamo le posizioni del PC alla costituente discutere le posizioni del PC adesso dico su quali punti del PC sul sul piano Marshall discutere posizione del PC sull'Unione Europea quella che poi sarà chiamata l'Unione Europea cioè la CEI che tutti tutti gli altri passaggi partendo però Roberto anche da un punto eh perché citavo i lavori della costituente perché noi del PC possiamo dire mh tante cose buone la difesa che poi ha fatto la costituzione tante tante altre cose però io penso che su una cosa sia difficile contestare quello che sto per dire cioè dire che il PC lo alla costituente lo chiamerebbe oggi sovranista cioè il PC aveva una cultura assolutamente sulla centralità della sovranità del Parlamento tant'è vero che era contro le regioni quindi contro i decentramenti ed era contro la istituzione della Corte Costituzionale e quindi era effettivamente un partito legato alla sovranità popolare non alla sovranità popolare e costituzionale non è popolare in quanto tale cioè eh diciamo così potremmo definirla adesso con un termine eh alla Giacobbina cioè all'ottantanove francese eh questo lo dico Roberto perché secondo me se noi continuiamo a vedere nel PC in Togliatti i belli eccetera eccetera i paladini della democrazia eh io penso che noi perdiamo di vista il tanto il contenuto culturale vero di quello che è stato il PC cioè la concezione del PC e poi neghiamo il fatto che il PC da partito diciamo così molto tattico gestito appunto da Togliatti poi adattava le sue linee alle all'evoluzione del momento ehm quindi io penso che discuta del PC sia una cosa molto importante culturalmente non possiamo farlo stasera però io volevo fare questo avvertimento e il secondo avvertimento che volevo fare sulla storia del PC è questa il PC ha sempre avuto una visione molto egemonica dei suoi rapporti con gli altri soggetti politici ad esempio sul PC col partito socialista italiano andava bene quando era assolutamente subalterno alle linee della terza internazionale e al PC non è andato più bene quando per esempio il PC da destra ovviamente e e si è sganciato dall'egemonia del PC però a me non interessava tanto questa vicenda mi interessa però Roberto chiamare la tua attenzione sul rapporto PC partito d'azione perché su questo per esempio il PC ha sempre avuto una linea di demolizione netta frontale contro tutte le culture veramente democratiche veramente democratiche come poteva essere quella appunto del partito azionista per citare i suoi esempi classici da Foa a Spinelli a Ernesto a Ernesto Rossi quindi secondo me mettere le mani su questo e quindi sarebbe anche mettere le mani sul rapporto PC federazione europea perché mentre per esempio i i federalisti italiani erano appunto per il federalismo europeo ehm contro lo stato nazione quindi contro la sovranità popolare dello stato e per la battimento e il superamento dello stato nazionale il PC non era su questa posizione però io ho fatto questi accenni veramente grezzi però non imprecisi spero per dire che secondo me affrontare la vicenda del PC e le sue politiche internazionali richiede appunto un lavorio ad hoc e anche una discussione fra fra di noi molto più approfondita di quanto lo possiamo fare stasera così come tutta la vicenda che tu ricordi di Berlinguer tu tracci un Berlinguer diciamo così eh eh euroasiatico agli urali così io ricordo il Berlinguer del compromesso storico il Berlinguer della Nato quindi secondo me noi non possiamo tagliare con l'accetta le cose perché l'evoluzione del PC è molto sempre legata alla contingenza PC era un partito molto dell'opportunità non voglio andare oltre sulle parole dell'opportunità cioè quindi era un vero partito politico detto questo io voglio richiamare invece ancora una volta l'attenzione sull'importanza che avrebbe avuto in Italia una cultura azionista veramente federalista so ovviamente che il federalismo era anche nella versione di Einaudi però c'era anche una versione socialista che che risala al padre di Trentin a Silvio Trentin c'è una tradizione di federalismo democratico come quello di Ernesto Rossi è stata uccisa in Italia tant'è vero che poi queste persone sono Calamandrei stesso era un del d'orientamento quindi io penso che tutta la vicenda PC sia molto più complicata e sia molto diciamo così meno democratica di quanto probabilmente Roberto abbia la voglia fare intendere eh ovviamente io essendo nato trotschista capisco che queste mie accentuazioni però sono molto onesto come vedete no cioè anti anti PC sono molto 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 forti per venire invece anche all'oggi eh io penso questo che il avendo letto come voi e diciamo le 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 gli atti della conferenza del futuro c'è fondamentalmente il documento il documento finale ehm anch'io penso che le le da questa conferenza viene fuori che cosa viene fuori un'idea d'Unione Europea sovrana a livello geopolitico ehm e questo mi pare che Paolo lo dicesse abbastanza bene intrecciato con l'idea che ehm l'Unione Europea dovrebbe eh 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 farsi promotrice di una globalizzazione come dicono loro Roberto Musacchio diceva appunto una regionalizzazione ehm che non è credibile questo è possibile ehm del del dell'Unione Europea io penso Roberto che sia invece l'idea di una globalizzazione selettiva significa che bisogna fare eh una globalizzazione cioè quindi le catene del valore le catene della sub fornitura che siano resilienti dicono loro cioè a dire che si scelgono i paesi e con cui è possibile fare da oggi in poi eh una relazione di globalizzazione è possibile o non è possibile su questo io ho più perplessità di del delle tue nel senso che quanto sta facendo anche gli Stati Uniti in Asia per esempio con l'ultimo viaggio di Biden con le con l'AUKUS lo chiamo così il quad eccetera eccetera vedo che loro comunque stanno tentando appunto di contrastare le leggemonia cinese in Asia e quella dell'U della Russia in in Europa appunto vedendo di rinsaldare alcune loro alcune loro alleanze non è facile perché anche loro hanno le contraddizioni per esempio l'India è in questo caso effettivamente una chiave di volta per per leggere le contraddizioni sia dello schieramento diciamo russo cinese sia dello schieramento guidato dagli dagli Stati Uniti perché l'India è non ha provato le 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 sanzioni alla Russia però sta dentro sia il quad ci sta dentro cioè quindi come dire nella politica anticinese l'India è è è è dentro così come nelle catene del valore mentre sta con la Russia per quanto riguarda le forniture di armi sta con con l'USA per quanto riguarda invece le catene del valore delle tecnologie avanzate dalla sanità a quelle a quelle informatiche quindi questa è una vicenda da seguire può darsi che abbia ragione Roberto nel dire che la vede molto impossibile oppure invece loro sanno appunto come parte della della strategia di confrontazione con di confrontation con la Cina e la Russia possano andare avanti comunque l'idea di questa conferenza del futuro su queste due aspetti cioè sovranità geopolitica accorciamento delle catene del valore io leggo i punti tre i punti cinque sono assolutamente assolutamente eh eh d'accordo eh così come il punto undici in cui si dice del dell'autonomia strategica mi pare che questo sia abbastanza nuovamente ribadito su questo punto io richiamo la vostra attenzione proprio sulle formulazioni del del punto undici là dove si dice che l'Unione Europea deve avere un'autonomia strategica vado alla conclusione eh vi ho già parlato molto nel senso che propongono anche un contratto sociale rinnovato questo per me è un punto molto importante perché adesso non non partecipa mai ehm papi bronzini su su questo il quale ci ricorda appunto il social pillar secondo me il social pillar è dentro la costruzione appunto di un rafforzamento della della integrazione dell'Unione Europea e ovviamente i processi di integrazione politica comportano anche dei processi di integrazione sociale cioè tu non puoi gestire una società mettendo al muro alla fame milioni e milioni di persone quindi l'Unione Europea ha la necessità di risancire un patto sociale in maniera che allevi con le misure possibili il salario minimo eh le le i contributi del sur e i contributi oggi per per le fasce debole sul su per combattere l'inflazione per appunto rafforzare la gestione la gestione politica. Questi secondo me sono temi che io spererei che papi possa affrontare prossimamente perché ci delineano una una parte appunto dei processi che l'Unione Europea sta portando avanti cioè a dire l'Unione Europea non è che vuol distruggere gli strati popolari. Unione Europea vuole gestire integrare nei limiti del possibile nei limiti diciamo così che le consente la l'accentuazione della sovranità eh geopolitica nei limiti che gli consentono l'accorciamento del valore nei limiti che gli consentono l'esaltazione della competitività a integrare appunto degli strati degli strati sociali. E qui adesso vado veloce ma insomma c'è il punto 13 sul mercato del lavoro ehm e e altri punti in cui ehm si si richiede questa integrazione fra una visione di un'Europa geopolitica sovranamente forte a livello dal punto delle delle della gestione dei conflitti mondiali e un'Europa appunto che è capace di integrare di gestire quindi attraverso poi i sistemi di governabilità per usare la parola che piace a fiammetta al al suo interno. L'ultimo punto che volevo dire perché veramente vi ho portato via molto tempo e e mi scuso c'è un punto che scusate lo ricerco perché così non dico delle delle fesserie e c'è un punto ehm che è il punto 39 quello che fa parte di tutte le questioni istituzionali eh su cui vorrei dire delle parole ma ma le farò in in una prossima riunione in cui si dice il punto 7 del 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 il 7 del 39 dice riaprire il dibattito sulla Costituzione. Però io penso che eh e ho concluso anch'io sono d'accordo con con Fiammetta che secondo me eh al di là di tutti i meccanismi che possiamo inventarci del rafforzamento del dialogo interparlamentare così se noi vogliamo dare effettivamente una visione nuova una svolta noi dobbiamo batterci per la convocazione di una costituente e per l'elaborazione di una costituzione. All'obiezione che sempre mi si fa ma l'elezione di una costituente sarebbe oggi avrebbe i i rapporti di forza identici io dico che spostare però la discussione fra forze politiche a livello del del dibattito costituzionale è diverso è un'altra apre un'altra prospettiva come dimostrò la costituente italiana in cui andava dai monarchici ai comunisti al alla democrazia cristiana in cui comunque si produsse una costituzione di compromesso ma che spostò in avanti il 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 terreno di confronto. Vi ringrazio. Grazie a te Franco interessantissimo l'intervento eh se c'è qualcuno che vuole rispondere o qualcuno dei relatori eh o qualcuno dei partecipanti abbiamo ancora un po' di tempo quindi possiamo diciamo vivacizzare ulteriormente la discussione se volete. Vedo Ernesto che sorride proprio sotto i baffi letteralmente chissà cosa. L'ho visto oggi l'ho visto oggi in uno splendido tango quindi l'ho ammirato veramente su Facebook l'ha messo su Facebook quindi è pubblico. Volevo dire eh questa cosa che ha detto Franco sulla costituente effettivamente c'è eh è vero che rispecchierebbe le attuali forze politiche in campo però il ruolo che eh quasi in maniera mistica assumono i coloro che sono eletti in una costituente non è da sottovalutare perché vengono diciamo eh viene affidato loro un compito importante e quindi probabilmente avrebbero un maggiore senso di responsabilità rispetto a quello che ci può essere in un in una convenzione istituita ad hoc dove come sappiamo partecipano lobbyisti associazioni più o meno diciamo eh più o meno positive ecco più o meno accettabili dal punto di vista della democraticità e quindi io sono molto d'accordo sulla sull'elezione di una costituente e un altro tema che mi viene in mente su cui spero di sollecitare di stuzzicare la voglia di qualcuno di rispondere eh il problema dell'inflazione e il problema della gestione di tutto questo debito europeo che so che avete fatto eh una precedente riunione eh alla quale io anzi mi scuso per non aver partecipato ma le varie proposte che sono state fatte secondo me non tengono conto nessuna né eh dell'enorme inflazione che sta travolgendo sia l'Europa che i suoi stati membri né dei problemi giuridici perché l'agenzia per il debito per esempio dove dove la incardini dal punto di vista giuridico nei trattati eh e e così via cioè modificare quelle regole eh come si può fare per modificare quelle regole eh perché adesso hanno esteso la sospensione del patto fino al duemilaventitré a causa della guerra e noi stiamo stappando le bottiglie di champagne ovviamente ma eh la sospensione del patto non vuol dire che anche le procedure del patto siano sospese correggetemi se sto sbagliando quindi tutto va avanti eh solo che per il momento non si aprono procedure per disavanzi eccessivi eccetera eccetera e questa cosa ora la stiamo rimpallando in avanti ma prima o poi bisognerà affrontarla e come la affrontiamo eh cioè non non so se noi possiamo immaginare un qualcosa che stia in piedi eh sia dal punto di vista eh sociale sia dal punto di vista giuridico democratico eh io sarei per la cancellazione del debito per esempio quantomeno del debito pandemico eh eh dell'eventuale debito insomma del debito adesso fatto durante la guerra per i soldi spesi per le armi francamente non lo so però non per non non cercando di non essere di non avere una posizione punitiva eh cercherei più che eh inventarmi strani meccanismi eh sì di aggiustare le regole sul patto di stabilità e crescita e su sui vari due pecs, six pecs, fiscal compact e via dicendo ma anche un avere un approccio più radicale cioè cancellare il debito pandemico che è una cosa che si può fare non è vero come dice la Lagarde che non si può fare perché eh perché non c'è scritto niente né nei trattati né nello statuto e quando non c'è scritto niente almeno noi giuristici insegnano che una strada per per arrivare a dama si riesce a trovare per cui ecco su questo forse stimolerei un dibattito un po più un po più acceso perché se ne è parlato per un qualche momento dopodiché però magari non è la soluzione giusta quindi ripeto gli economisti presenti ci possono illuminare su questa strada che forse sto dicendo una fesseria e non me ne rendo neanche conto e non so se Giovanni vedo tante persone niente non non so se Ernesto vuole dire qualche cosa il microfono dicevo no adesso ho scritto un messaggio per dirvi che vi devo lasciare e vi illuminerò la prossima volta adesso ho un impegno più importante devo fare allenamento per il ballo ciao Ernesto ma anche Paola diciamo se non ci sono non è detto che dobbiamo per forza portarla per le lunghe abbiamo alcuni ascoltatori io sto chattando con alcuni quindi vediamo un attimo rispondo un attimo al telefono poi devo una risposta a franco russo se non ci sono altri no io mi chiedo veramente su questa cosa della dell'agenzia del debito eccetera non non voglio entrare perché sono materie molto complesse e non abbiamo neanche il tempo ne ho abbastanza capacità però e sono i temi che stanno sul tavolo appunto sulla questione della riforma della governanza europea ci sono stati contributi da parte di molti anche contributi da parte di alcuni centri studi italiani o studiosi italiani che vanno approfonditi che vanno studiati che vanno approfonditi con la speranza diciamo che non si tratti di una tinteggiatura insomma no di facciata ma che effettivamente poi possa possano incidere sulla sulla struttura proprio della ma non potrebbe essere ad avere questo compito cioè fare le cose più semplici possibili perché complicarci ulteriormente la vita con altri soggetti altra burocrazia senza tanto comunque le mani sui trattati vanno messe adesso si è deciso di sì fare che si è deciso di sì io per esempio prego prego Giovanni mi rubo solo due minuti perché anche io poi devo andare ma solo per interessantissima discussione certamente dovremo approfondirla anche sui punti che giustamente ci vedono se non contrapposti comunque come dire articolati io devo dire prima me la cavo proprio in un secondo anche per la mia come dire carriera universitaria io ho sempre le mie tesi sono su Trentin sul federalismo con tutta la prima parte dell'intervento di la sua impostazione mi senti? sì, adesso sì mi sentite? domani abbiamo perso un po' di battute però insomma la battuta era solo questa in breve, Trentin ecco io ho scritto anche da giovane studioso quindi sono d'accordo esattamente con quello che tu dicevi Trentin, federalismo eccetera per quanto riguarda l'aspetto come dire l'idea dell'Unione Europea sovrana è vero che hanno l'idea della globalizzazione selettiva e qui anche tu l'hai fatto rilevare l'hai lasciato ma poi l'abbiamo discusso ieri nella sede del laboratorio per il sud io approfondirei molto io approfondirei molto anche dal punto di vista proprio ordo liberiste anche della governabilità tutto l'aspetto dentro il PNRR tra l'altro è una falsa la falsa la truffa della transizione ecologica tutto il rapporto anche interno ma che diventa interno esterno del Mezzogiorno d'Italia come hub appunto di una transizione ecologica a Pasulla perché come diceva giustamente Roberto nella sua introduzione io credo che contrapporsi all'euroatlantismo contrapporsi comunque ad un'idea della sovranità europea così come viene avanti anche per le difficoltà della Germania che giustamente Roberto rilevava io credo che rilanciare un'idea sto pensando ai lavori per esempio del mondo diplomatique e così via di qualche anno fa rilanciare una governabilità euro-mediterranea anche in contrapposizione invece all'ordoliberismo e ai tentativi di uscita all'ordoliberismo che vengono avanti e poi sono tentativi contrattitori perché appunto è stato già detto mi pare da Franco nel momento in cui si dice tentiamo tentiamo di gestire anche i rapporti con le singole nazioni di gestire sul piano istituzionale sul piano sociale poi la dichiarazione a me per me è stata sconvolgente a parte Borre racconta poco ma la dichiarazione da von der Leyen di ieri pomeriggio cioè la guerra finisce con la vittoria dell'Ucraina ha un significato anche di collocazione di poteri che forse stiamo un po' trascurando molto molto forte io credo adesso ho scritto poco fa un articolo appunto sulla testa in cui riprendo alcuni di questi temi io credo che noi dobbiamo non possiamo sottovalutare all'interno dell'economia post pandemica e poi dell'economia di guerra una come dire una guerra valutare a livello globale di cui secondo me da un lato la vicenda ucraina russa rublo gasprome eccetera ma in qualche modo anche il viaggio di Biden per accerchiare la Cina non necessariamente non necessariamente eh riuscita perché poi eh mi pare che Franco dicesse c'è l'India con i suoi ossimoni le sue contraddizioni è molto importante anche l'Indonesia da questo punto di vista e su questo punto e altri stati e altre nazioni anzi ehm asiatiche beh io credo che mh da questo punto di vista eh quello vabbè quello che abbiamo chiamato anche in un incontro precedente la nuova Bretton Woods o meno ecco tutto il dibattito che ha aperto il compiante bravissimo a Righi proseguiti in qualche modo da Fumagalli insomma tutte le queste accezioni su cosa su una nuova un nuovo equilibrio valutario e monetario plurale plurale potrebbe essere in qualche modo una discussione da fare tenete conto che non è detto che poi Biden ehm vinca le elezioni di mid term insomma cominciamo a ragionare anche su questo che gli equilibri sono molto fragili cosa addirittura sconvolgenti in Russia con probabili cambiamenti anche violenti ma sono difficili anche in Cina non è facilissimo non è facilissimo il congresso del partito comunista cinese per l'attuale eh per l'attuale dirigenza anche per ciò che ha posto al centro di questo congresso ma non sto qui a perdere tempo su questo punto e ma anche quella statunitense ecco un ultimo punto poi non mi faccio più perdere tempo io sono sempre stato d'accordo lo diceva adesso Fiamette lo diceva Franco prima batterci per la formazione di una costituente per una nuova posizione europea ovviamente il principio è giusto sono d'accordo credo che questo debba essere un po' il nostro un punto fondamentale della nostra riflessione anche fondativa la nostra riflessione però le costituzioni come come Franco sa bene come ci insegnano i nostri maestri eh i nostri maestri costituzionalisti eh le costituzioni nascono sempre da rotture le costituzioni nascono da rotture guerre rivoluzioni ricordo appunto quindi quale momento migliore a questo stavo dicendo infatti pensavo a un testo di Gianni Ferrari quindi il clima è certamente giusto forse ecco dobbiamo in qualche modo leggere meglio aspettare che che queste questi sconvolgimenti queste rotture eh indichino in qualche modo un punto un punto di approdo è che in questo momento è molto difficile perché appunto la Polonia da da reprobare dell'Unione Europea diventa la guida dell'Unione Europea forse c'è la Unione Europea in quanto tale io la penso così non c'è più sono molto drasti in questo momento c'è una nuova Unione Europea che è quella più atlantica guidata direttamente dagli Stati Uniti poi noi stiamo è chiudo sul serio non stiamo dimenticando cosa è l'Unione Europea lo sarà comunque come forza che si autopropone come nazione si autopropone ma con l'Ucraina che comunque questa guerra non finirà però un'uscita degli eserciti in qualche modo dai confini o comunque dalle occupazioni o sotto forme diciamo sotto forma coreana in qualche modo questa guerra avrà una seconda fase e l'Ucraina paese di 45 milioni di persone armatissima armatissima non dimentichiamo e conforme e conforme di gestione di gestione dello Stato postdemocratico vorrei dire molto vicino a quelle a quelle polacche se lo studiamo e che dobbiamo studiare bene anche prima della guerra cosa era cosa era l'Ucraina non per accedere alle sciocchezze sulla denazificazione però andiamo a leggere come è strutturato lo Stato Ucraino beh questo Stato diventa importantissimo dentro un'Unione Europea diciamo nuova e quindi ecco rislanciare una costituente credo debba fare i conti aspettiamo un po' ecco questa era la mia impressione aspettiamo un po' come finisce aspettiamo un po' di parlarne a ottobre novembre per lanciarlo proprio come parola d'ordine perché in questo momento noi non sappiamo a chi proponiamo la costituente a quali soggettività su quale diagramma su quale articolazione comunque sono d'accordo che ammetto con quello che dicevi era solamente una forma di come dire di prudenza perché non riesco a capire come gestiamo poi anche come sinistra europea come Q e insomma come gruppi parlamentari questa proposta grazie grazie a te Giovanni Roberto forse volevi no ma brevissimamente uno per Franco si è dichiarato truschista io mi dichiaro che non sono niente nel senso che non sono né piccista c'è una storia complessa articolata che è la storia di questi nostri oramai 55 anni di militanza per quanto mi riguarda mezzo quindi Roberto detto che nasco truschista si si appunto nasce truschista io non sono nato niente sono nato in una situazione in cui era ibridata no lo dico perché io penso che la mia intenzione lo dico quanto mi avete affidato una relazione non era per nulla geografica infatti riguardando adesso la scaletta che c'avevo la contrapposizione era tra federalismo democratico e funzionalismo e poi che è questo federalismo democratico in realtà nella sua parte progressiva si è appoggiato al PC questa è un po' la storia tutto sommato perché avete parlato di personaggi compreso Bruno Trentino che ricordo più volentieri nella sua versione federalista che nella versione da Roberto scusa Silvio Trentino non Bruno è Silvio Trentino è Roberto Silvio Trentino ho sbagliato ho sbagliato la citazione ma insomma anche Bruno veniva dall'azionismo se non sbaglio se non ricordo male nelle mie conoscenze insomma si si anche lui dall'azionismo si e anche lo stesso Spinelli appunto quelli che provarono a far vivere il federalismo come dinamica di massa si sono appoggiati al PC e lì mi pareva su questo l'ha perso diverso anche da fiammetta cioè non vedo la continuità così immediata tra tra Togliatti e Berlinguer insomma vedo un Togliatti più nettamente sovranista e vedo un Berlinguer più legato all'idea della del governo democratico mondiale ora il punto è che nel federalismo nel federalismo appoggiato al partito comunista al movimento operaio quello che volete hanno vinto la partita e mi pare di poter dire che lo scioglimento del partito comunista così come lo scioglimento dell'Unione Sovietica non ha portato fin qui diciamo risultati apprezzabili ecco non siamo nella rivoluzione mondiale ma siamo dentro la contro riforma la rivoluzione permanente del capitalismo diciamo molto schumpeteriana più che trotskista ecco poi chiaro che uno gioca un po' con le parole io non ho la non ho la cultura che hanno Franco e Giovanni sono un po' più un apprendista del polemismo politico insomma però poi ho un certo naso per orientarmi nei momenti in cui di riorientarsi e da questo punto di vista io in questo momento penso che la parola d'ordine della costituente sia difficile perché non sai dove appoggiarti infatti nel chiudere ho proposto due cose diverse su cui vorrei che poi tornassimo perché dobbiamo uscire un po' dalla lettura sempre economica cioè le catene del valore funzionano non funzionano dipende da per chi per chi devono funzionare in questo momento funzionano per tutti per le multinazionali come per Putin non funzionano per noi per la gente normale funzionano male io penso che citavi il pilastro sociale ripreso sempre da Bronzini secondo me in questo momento non ne frega il giusto cioè stanno affinando di più le pratiche di dominio e tra pandemia e guerra insomma voglia affilare quanto ne hanno affilato contemporaneamente guardano di più ai compromessi politici piuttosto che compromessi sociali insomma quello che è successo con la Polonia e con la Gran Bretagna è veramente da nemici pubblici numero uno dell'Unione Europea sono diventati leader dell'Unione Europea come dicevoli per questo io ci tenevo a quelle due proposte che modestamente dicevo alla fine una una disobbedienza proposta da una cosa che c'è una sua forza che è quella francese anche lì a me possiamo discutere non è che io sia un appassionato di Melashon eccetera eccetera guardo le forze come si stanno costituendo del PCF che in questo momento è anche nuclearista e la questione dell'interparlamentarismo cioè richiamare i parlamenti alle loro responsabilità come interfaccia di quello che poi Petrella a cui invece mi ispiro molto nel suo radicalismo anticapitalista democratico anticapitalista ai dominati ai cittadini contro i dominanti che è una categoria anche questa molto discutibile perché naturalmente non è immediatamente la classe operai anzi ma insomma mi sembra interpretativa per me però io sono contento di oggi l'ho fatta anche un po' provocatoriamente questa cosa perché francamente questa discussione per cui l'Europa sembra solo economia non mi ha mai convinto diciamo che ho anche giocato con i centenni cento anni di Berlinguer conoscendo anche gli interlocutori e vi chiedo scusa di questo ma insomma è anche un po' un vezzo un vezzo ma insomma mi pareva di qualche utilità grazie per quanto riguarda mi taccio grazie mille Roberto grazie no io dicevo invece che c'è continuità tra la via italiana al socialismo e la terza via di Berlinguer in quello vedo una sorta di continuità passando attraverso l'ongo ma perché come diceva Franco secondo me giustamente il PC poi ha fatto quello che quello che doveva fare cioè sempre rimasto molto ancorato al quotidiano e si è mosso di conseguenza che per me non è una critica perché in questo paese non avrebbe potuto fare altrimenti ecco però appunto qui mi taccio e ringrazio anche Roberto per la per la sua replica se non c'è nessuna ringrazio anche io Roberto e Paola grazie adesso ringraziamo tutti voglio solo sapere se c'era qualche altro intervento mi sembra di no allora appunto grazie Paola moltissimo grazie Roberto grazie a te alla nostra grazie a te grazie a tutti buona serata ciao arrivederci ciao